Ciao a tutti, solo un saluto. Oggi non presento fotocamere, obiettivi o altro. In verità sono qui al riparo di un muro per consumare un pasto fugale in una giornata di vento molto forte, di cielo nuvoloso. Dal mio punto di vista è una giornata meravigliosa. E naturalmente appartengo a quella piccolissima minoranza di persone e di fotografi nel caso specifico che amano le giornate uggiose, diciamo così. Quindi il maltempo, il freddo, le nuvole, il vento. Quelle situazioni che dal mio punto di vista rendono meglio l'idea di una certa malinconia, diciamo così. Insomma, fotografare col sole mi pesa sempre un po'. Adesso stiamo andando verso la primavera e quindi la maggioranza dei fotografi che invece amano il sole, le belle giornate, il verde, i fiori, eccetera, saranno ben contenti. Ma insomma, io adesso cerco di recuperare un po' questo inverno anomalo che di fatto non c'è stato. È stato un inverno sempre caldo, non c'è stato mai il gelo, mai il ghiaccio, mai lì, non lo so. Almeno qui nell'Italia centrale, nella Tuscia, magari altrove qualcosa ha fatto, ma i fiumi sono al minimo, le montagne non hanno la neve, eccetera, eccetera. Insomma, una situazione abbastanza complessa. Ma insomma, appunto, oggi me la sto godendo un po', però, insomma, è chiaro che poi il vento così forte per consumare il panino non è il massimo. Ecco, volevo fare solo questo saluto e questa riflessione mentre andiamo incontro alla fine dell'inverno. Dal mio punto di vista, ahimè, alla prossima!